la formazione secondo me è alla base della capacità della vita di una delle qualità di un attore di un'attrice nel senso che attraverso la formazione uno si perfeziona capisce gli errori capisce dove può arrivare perché a volte le persone non hanno il senso di quello che invece possono incredibilmente scoprire la formazione è fondamentale perché ti permette soprattutto ad un attore o un'attrice nel loro caso di capire quanti personaggi quante diverse cose possono fare perché non c'è niente di meglio di un attore che cambia facendo più personaggi prima di leggere di imparare a memoria cercate di capire bene cosa accade qua cosa accade qui e cosa accade in chiusura la formazione è alla base proprio per iniziare in maniera sorprendente a recitare a recitare a teatro a recitare al cinema a recitare anche in questi nostri corti che realizziamo facendo appunto delle lezioni dove poi alla fine proprio per capire se tutto quello che nella teoria è stato spiegato nella pratica è diventato realtà attori si nasce o si diventa dipende nel senso che alcuni nascono con questa incredibile dote questa incredibile qualità come era poi soprattutto in un certo periodo il nostro grandissimo e bellissimo realismo dove la gente veniva presa per strada e si trovava a interpretare se stessi nel modo più naturale altri piano piano costruiscono quindi diventano attori dove poi tolgono la loro capacità di recitare perché la cosa più bella secondo me nell'essere attore è nel non far vedere che stai recitando cioè nella capacità di essere il più naturale possibile perché a volte con delle piccolissime espressioni in realtà hai raccontato tutto sia aperto sia capace di ascoltare di sorprenderti di meravigliarti perché possono succedere le cose più inaspettate che tu non credevi anche perché la vita oltre a essere meravigliosa è piena di sorprese a parte che è anche bello fare questi corsi di formazione perché ti permettono di superare semplicemente delle tue personalissime difficoltà ti insegnano a stare in pubblico ad acquistare una tua sicurezza e una tua capacità